8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Femminiland! Partiti! Partiti, partiti, la Femminiland è la lì, Femminiland è la lì, Femminiland è la lì, la Femminiland è la lì, che subito si vede, in prima volta, sono tanti preti che hanno contento il gruppo, guardate che è ballata, e ben passata! Un grande del fruddrio, quindi ricordi, Ottitico, Ottitico! 18, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 9. Processando manito, bravi ragazzi, sono l'isole, per ripetere le macchine fotografie, e mi raccomando condividete le fotografie, inviatele, fatevi scatto tra poco sarà un serpettone continuo, non finirà più come on, come get ready ciao Manu abbiamo provato